Ciao, mio nome è Lorenzo Musetti, ho 19 anni e sono d'Italia. Ho iniziato a giocare tennis a 4 anni con mio padre, e ora è il mio lavoro. Mi piace tutto il tennis, è la mia passione, ho anche un tattoo. Ho capito che ho avuto qualcosa di speciale sul tennis. Ho visto Lorenzo giocare a tennis per la prima volta a otto anni. Mi ha impressionato la sua facilità nel colpire la pallina. La mia fortuna nel corso è probabilmente la mia backhand. Penso che è la mia letta in giro. Sicuramente potrà diventare un top 20. Lui ci crede e lavora per quello. Il mio successo è molto difficile. Penso che sia un mix tra l'esercito e il talento. La mia motivazione nel tennis è di essere una buona persona, una vera campionata, anche da parte del corso. Ero. 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 Grazie a tutti.